Ciao amici, benvenuti qui a Manuco Academy con il progetto Io resto a casa di Thermal Riot. Oggi vi faccio vedere un altro piccolo circuito che potete fare tranquillamente a casa senza l'ausilio di nessuna apprezzatura. Abbiamo parlato del riscaldamento con il running sul posto, con la corsa sul posto, abbiamo parlato del riscaldamento con la colla per chi ce l'abbia a casa, per chi ha la fortuna di avere qualche piccola attrezzatura. Oggi faremo un riscaldamento diverso. Oggi facciamo un po' di corno di plank a terra per i costabili e lo alterniamo tra un plank basso e un plank alto. Quindi andremo a fare questo tipo di esercizio per riscaldarci alternando il plank alto al plank basso. E lo facciamo almeno per una quindicina di ripetizioni. Cicciate c'è? Lei è una nostra piccola amica. Sei buona cicciate. Dopodiché, dopo che ci siamo riscaldati, faremo dei glutei alternati a terra. Alterniamo i glutei salendo su con la coscia e facciamo 15 ripetizioni per almeno 5-6 serie. Occhio a quando facciamo i glutei perché i glutei si possono fare in tanti modi. O li fate così, o li fate alternati uno alla volta. Dopodiché ci facciamo... dei rimatori sul posto, se avete delle bottigliette d'acqua, dei manubri, dei ghett, qualsiasi cosa, fletto le ginocchia, fletto il busto in avanti, chiudo le scapole e ci facciamo dei piccoli rimatori sul posto, almeno 15 ripetizioni per 4-5 serie. E posso terminare con delle circondizioni sul posto, avanti e indietro. Almeno 30 avanti e 30 indietro per 5-6 serie ogni volta. Quindi un circuito semplice che potete trattare almeno per 40 minuti. Potete fare una decina di giri. Le persone più esperte, più avanzate, cardioculturalmente, più allenate possono fare qualche giro in più. Io vi saluto, Mimi li saluta e vi mando un bacio alla prossima. Ciao!